La moglie di Bonucci le ha uscite. La reazione del calciatore. Bonucci e la moglie su Instagram. Finalmente le ha uscite. Leonardo Bonucci e Martina Maccari, il tormento Nesci le ha finalmente fine. La moglie del difensore bianconero ha postato su Instagram una foto a torso nudo insieme al marito. Era tutto nato da una foto di una scollatura postata su Instagram da Martina Maccari con un invito diretto del calciatore Scile. Il giorno dopo, sua moglie ha replicato stavolta coperta per intero. In quel caso Bonucci aveva commentato. Ti avevo detto Escile, non coprile. Alla fine Martina Maccari ha ceduto e le ha uscite. Leonardo Bonucci ha scherzato così sotto il post Instagram di sua moglie pubblicato in occasione della festa delle donne. Sentitevi donne, sentitevi libere di essere donne. E soprattutto, scegliete qualcuno che accompagni la vostra libertà, e che la sostenga, ha scritto Martina. Una didascalia con una dichiarazione d'amore per suo marito, corredata a una foto di coppia in cui i due appaiono in bianco e nero e a petto nudo. Ecco allora il commento di Bonucci. Le avevo detto Escile, e lei le ha uscite. E lei le ha uscite. E lei le ha uscite. Grazie a tutti